Paolo Zanetto, cosa significa oggi fare lobbying nel settore dell'ICT? Significa gestire un sistema complesso di relazioni tra player diversi che competono all'interno di un mercato delle regole per cercare di uscirne favoriti. Gli operatori over the top, gli operatori di telecomunicazione, i produttori di tecnologia si trovano in questo momento davanti a scelte di sistema a livello italiano e a livello europeo che determineranno gli equilibri competitivi nei prossimi anni, equilibri competitivi che passano ben appunto da alcune scelte di fondo, da alcune scelte di regole, da alcune scelte relative a grandi progetti che si spera che anche in Italia partiranno e stanno partendo. Dov'è che si prendono oggi le decisioni che contano nel settore dell'ICT? La verità è che si prendono sempre meno in Parlamento e meno di un tempo all'interno dei luoghi tradizionalmente deputati come il governo, come le autorità di regolamentazione, in particolare la Gcom, che pure conservano un grande ruolo e importanza, il primo per determinare quei grandi progetti come ad esempio quelli legati alle infrastrutture di rete, il secondo per tutto ciò che riguarda la regolamentazione. Ma la vera novità è che la policy nell'ambito dell'ICT viene fatta sempre di più in luoghi come questo, come il convegno di Capri, di Bitwina in cui siamo oggi, in cui finalmente gli operatori diversi si incontrano, si confrontano, riescono a parlare senza troppa diplomazia e senza troppa correttezza politica per così dire, e dire effettivamente quello che pensano. In questi giorni credo che si sia fatta molta più policy per il futuro dell'ICT che non in diversi mesi in Parlamento. Insomma, per il settore dell'ICT serve un luogo dove fare networking informale, così come segnala la rete? Networking informale e soprattutto avere il coraggio di dire le cose come le si pensano. A volte non si sarà d'accordo, a volte si troveranno punti di equilibrio. Il mestiere di chi, come me, fa il lobbista è anche quello di aiutare a trovare dei punti in comune, dei punti di mediazione. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.